Ieri in Consiglio Comunale la discussione sul Pride FWG in merito ad una mozione del Partito Democratico fortemente critica nei confronti della Giunta Comunale, che ha negato Piazza Unità per il concerto finale della manifestazione, ha fatto affiorare due posizioni nettamente distinte. Da un lato appunto quella del PD, che inquadra il problema da un punto di vista più prettamente politico. Lo spazio infatti non è stato concesso perché non sarebbe in linea con il programma di mandato. Ecco, noi riteniamo che invece quello spazio sia pubblico e debba essere concesso, salvo motivi oggettivi che rendono impossibile la fruizione, debba essere concesso a chi lo chiede per poter esprimere liberamente il suo pensiero. Dall'altro quella più oltransista, fatta propria dai consiglieri Tuiac e Porro, contrari per motivi che hanno a che fare esclusivamente con la religione. Santa Caterina, dottore della Chiesa, le diceva che l'atto omosessuale è un abominio anche per il demonio, non solo per il nostro buon Dio. Quindi credo che va in contrasto con i valori del centro-destra, con i valori che ci hanno permesso democraticamente di essere stati eletti. Quando Tuiac esposta il suo ragionamento nei territori della politica, a gioco facile nel ribadire un concetto fondamentale, che cioè la contrarietà a questo genere di manifestazioni, era parte del programma che ha portato il centro-destra al governo della città. Questa era la democrazia, siamo stati eletti per difendere questi valori, se no vinceva il PD con quegli altri valori. Mi sembra che non c'è stato niente di così scandalioso, però almeno cercare di limitare un pochino certi spettacoli che per molti cittadini non sono giusti. Su questo terreno però anche l'opposizione a gioco facile nel ribattere, sottolineando in qualche modo il ruolo Super Partes che dovrebbe aspettare a Piazza Unità. Un conto è non concedere il patrocinio, cosa che personalmente anche ho contestato, il fatto che non sia stato concesso il patrocinio nella manifestazione. Altra cosa è addirittura permettersi di considerare sostanzialmente Piazza Unità come una dependance della maggioranza politica di turno.